La mia esperienza al master è stata sicuramente positiva, mi ha dato l'opportunità di conoscere compagni, insegnanti che mi hanno lasciato lavorativamente parlando delle esperienze importanti. Dal punto di vista lavorativo io mi occupo ora come ora come sviluppatrice di prodotti nell'ambito formativo e il master mi ha aiutato a ottimizzare gli strumenti che il marketing e il web forniscono per fare ricerca e ad utilizzare il web sicuramente con più coscienza.